10 giorni per riscoprire e conoscere l'anima dell'agricoltura fanese analizzandola dal punto di vista culturale fino ad arrivare a quello più popolare prenderà il via venerdì 20 maggio la ventottesima edizione di fano geo ascoltiamo la terra la manifestazione agricola che celebrerà un settore fondamentale per il territorio l'evento organizzato per il secondo anno dalla proloco di fano è stato realizzato con la collaborazione della cooperativa sociale falcineto e il supporto dell'amministrazione comunale di fano anche quest'anno ritornerà all'area codma con due giornate all'insegna dell'agricoltura a 360 gradi quindi fiera dei prodotti e dell'attrezzatura per l'agricoltura e poi tante aree tematiche per cercare di far vedere al meglio le persone che visiteranno la fiera il mondo dell'agricoltura appunto a 360 gradi parliamo di falconieri parliamo delle giacche verdi col battesimo della sella parliamo di fattoria didattica quindi veramente il mondo dell'agricoltura siamo presenti con due stand rinnovati in cui in uno rappresentiamo proprio l'ambiente fluviale poi quello della pianura e quello della prima collina nell'altro abbiamo degli animali proprio del nostro territorio esponiamo il cinghiale esponiamo il lupo che è proprio di attualità in questi tempi siamo anche presenti la domenica con il solito pranzo del cacciatore a cui partecipano veramente molte persone e quindi siamo lì alle 12 e 30 della domenica l'evento poi si sposterà direttamente sui campi martedì 24 maggio alle ore 15 con le giornate del grano 2016 giovedì 26 invece verranno eseguite le prove di aratura raffinatura e semina fanno geo terminerà con la 37esima festa dell'ammietitura in programma sabato 28 e domenica 29 maggio al falcineto park nel fine settimana conclusivo si svolgerà la rievocazione della falciatura e della trebbiatura e verranno esposti i mezzi e le attrezzature agricole moderne ed epoca facciamo vedere proprio come si facevano una volta questi questi lavori nei campi cioè com'era la vita degli agricoltori la vita del contadino nel periodo della trebbiatura e della ratura che era sì tanta fatica no perché era un lavoro molto faticoso però era anche un momento in cui i contadini era il periodo in cui mangiavano meglio no durante l'anno perché alla sera c'erano poi queste cene e queste cene proseguivano con una festa con dei balli e noi in pratica con la festa riproponiamo questa atmosfera c'erano c'erano 4 2 4 4 5 6 6 7